Una maledizione ricadrà sulle membra degli uomini. Brutto è malato, escuscia dal suo letto salubre per sfidare il vile contagio della notte. Temo che il popolo elecca Cesare il re. Ah, lo temi! Congiura. Che cosa dicono gli auguri? Vorrebbero che oggi non usciste. Cesare si tenga forte, perché lo scrolleremo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti.